Continuano le attività per rilanciare il centro storico del capoluogo marcianese. In partenza i lavori del PUC2 e anche alcune iniziative che stanno già trovando concretezza, quella degli affitti a prezzi concordati, è un contributo per le attività in partenza. Si parla già di 4-5 locali chiesti in affitto per cui nuove attività dovrebbero mettere piede al centro storico. Ma c'è ancora qualcosa in più. Si sta formando in questi giorni un'associazione che mette insieme tutti gli operatori del centro storico. Sentiamo Giancarlo Toccacieli, su questo intanto di cosa si tratta? Lo scopo di questa associazione temporanea di scopo, ATS in corto, è principalmente quella di mettere insieme tutti i portatori di interessi i cosiddetti del centro storico in un'associazione, quindi volendo superare quelli che sono magari gli staccati delle associazioni di categoria. Naturalmente le associazioni di categoria sono indirettamente partecipi di questo, ma è stata creata questa associazione proprio per dare spazio a tutti quanti, professionisti, commercialisti, artigiani, commercianti. Tutti coloro che hanno degli interessi economici all'interno del centro storico sono stati coinvolti e saranno coinvolti in questa associazione. Com'è l'impatto? Come hanno reagito gli operatori? Direi positivamente, in quanto abbiamo avuto 65 adesioni da parte di operatori economici del centro storico e rappresentano quasi il 70% degli operatori del nostro centro storico, quindi direi una risposta iniziale importante. Qual è l'obiettivo? Che cosa vi proponete di fare con questa associazione? Allora, questa associazione dovrebbe essere l'interlocutore principale e privilegiato dell'amministrazione comunale, ma anche nei confronti di tutte le altre associazioni culturali, sportive, ricreative che operano nel centro storico per fare una squadra, per fare sinergia e per cercare di riuscire a superare questo anno e mezzo di cantieri che saranno presenti nel nostro centro storico e di vivere questo momento non come una tragedia, ma assolutamente come un'opportunità, quindi trasformare l'impegno e i disagi dei cantieri in un'opportunità, soprattutto di sviluppo al termine dei lavori. Marsciano 7 vi dà appuntamento su Tef Channel Sky 836 nei giorni e agli orari che leggete in sovraimpressione, al Cinema Concordia di Marsciano prima degli spettacoli e in ogni momento su www.marscianosette.it www.marsciano.it www.marsciano.it